Il Trestin abissa il successo di Coppa superando la CF Foligno, anche in campionato, la prima vittoria dei bianconeri del presidente Bambini arriva in rimonte in maniera incredibile con la CF avanti 2-0 al diciottesimo del secondo tempo rispetto all'undici di San Giovanni Valdarno, Calori cambia 4 undicesimi e disegna un 3-4-2-1 con Fratti in porta, Vietina, Grea e Bucci in difesa, Nurita, Coni, Lisi e Dottori in mediana con De Sosa e Ferri Marini a sostegno di Mencagli. Sull'altro fronte Manni deve rinunciare a Tomassini a Ciaccato, c'è D'Urso così al centro dell'attacco, unica variazione rispetto al 4-3-3 di Civita Castellana che vede Tognetti fra i pali, Santarelli, Nuti, Schiaroli e Benedetti a comporre il reparto arretrato, Piermarini, Lex Cercuzzi e Panaglioli in mediana con un altro ex, Kribek, D'Urso e Calderini davanti. 35 secondi e la mischia nell'area della CF scalda subito il pubblico del Casini, poi al dodicesimo Calori deve rivedere i piani iniziali, condottori out per un problema muscolare, dentro Serra con Lisi da quinto a sinistra. La CF scalda i motori al sedicesimo quando D'Urso di testa incorna sul fondo sul cross di Kribek, Kribek che scalda il destro tanto che al ventottesimo quando Calderini finisce giù il piedino è caldo a tal punto da battere Fratti con la specialità della casa, il calcio piazzato, 1-0 a CF per il più classico dei gol dell'ex. La replica del Trestin è nella conclusione di Mencagli, Murato, Danuti. In avvio di ripresa gli ospiti spingono ancora sul gas con D'Urso che chiama la risposta Fratti sull'assist di Calderini. Ancora D'Urso protagonista al sessantunesimo quando viene a contatto con Grea e finisce giù in area. L'arbitro Melloni di Modena indica il dischetto e dagli 11 metri Calderini non sbaglia, 2-0 a CF al minuto 63 e la gara sembra in assoluto controllo per la formazione di Manni. Il tecnico Folignate decide allora per un triplo cambio, fuori Calderini, Kribek e Piermarini, dentro Pupo Posada, Mattia e Mancini e si passa alle due punte. Calori risponde invece con l'ingresso di Nuti per Serra passando ad una sorta di 3-2-1-4 al dir poco offensivo e la partita cambia anche per due autentiche prodezze. Minuto 67 Ferrimarini tira fuori dal cilindro questa sventola, il figlio Alessandro sugli spati prende appunti e applaude la giocata del papà. Il Trestina accorcia e potrebbe subito pareggiare, Manuti spara a salve sull'assist di Ferrimarini. Ancora Trestina al 76esimo e Tognetti risponde presente, così come sul ribaltamento di fronte è fratti a dire no alla conclusione di Pupo Posada. Il Trestina ci crede e all'84esimo De Sousa si inventa questa parabola all'incrocio che fa esplodere letteralmente il Casini. 2-2, dai che la vinciamo! urlano i tifosi bianconeri e il puntero brasiliano li prende alla lettera, insaccando alle spalle di Tognetti al minuto 93 la palla del 3-2. Clamoroso al Casini, la festa è tutta del Trestina che non ha mai smesso di crederci. La CF Foligno invece mastica Amaro per una partita praticamente vinta, buttata alle ortiche in maniera incredibile.